Eccoci al decimo episodio dei 10 motivi che tengono persone lontane dall'arrampicata. Chi più ne ha, più ne metta. Se non ti piace l'idea di abbassare il ritmo della tua vita e di immagerti nella natura, allora io ti capisco. Se invece ti piace viaggiare, vuoi sentire il tuo corpo muoversi armoniosamente e cambiare prospettiva alle cose, osservandole dall'alto, allora devi prendere in considerazione che puoi imparare ad arrampicare e che tutto il resto sono solo scuse o problemi che si possono risolvere. Basta rivolgersi alle persone giuste. La didattica che ti consente di migliorare e di appassionarti a questa disciplina comprende prima una preparazione al movimento, tale da renderti già sicuro di quello che stai facendo, quindi di renderti consapevole e sicuro di essere capace a gestire quantomeno il tuo corpo. Successivamente si fanno degli esercizi su corda, poi si lavorerà su roccia, in ambiente naturale, quindi anche l'altezza. In questa maniera la didattica ti porterà a gestire al meglio le emozioni, ti abituerà alle sensazioni e alle emozioni, e ti darà la preparazione per sentirti sicuro e sentirti a tuo agio attraverso un percorso di conoscenza, sulle priorità necessarie per sentirsi stabile e per sentirti sicuro, anche perché metterai in opera tutte le manovre di sicurezza, perché avrai proprio la mentalità e quindi i processi mentali che ti garantiranno il mantenere le procedure e mantenere la sicurezza alta. Si va oltre i propri limiti sempre rispettando quello che noi siamo e rispettando quello che stiamo facendo, un po' alla volta. Quindi la mentalità non è solo il focus, non è solo il processo, non è solo la procedura, ma è la gradualità. Questa è la mentalità vincente del no limits, che io traduco in italiano come possibilismo, il rendere le cose possibili. Rimani aggiornato iscrivendoti al sito e cliccando sulla campanellina. In questa maniera ti verrà notificato ogni volta che io caricherò un nuovo video. Alla prossima!